Simona Izzo nella bufera, ecco l'importo della pensione Simona Izzo è un volto famosissimo in Italia, e ha lavorato davvero molto in televisione Recentemente ha preso parte anche a trasmissioni come Il Grande Fratello Vitto, rimanendo sempre molto importante anche nel grande schermo La Izzo, però, percepisce una pensione che ritiene essere troppo bassa, e di cui ha parlato lei stessa Infatti, ha dichiarato di ricevere, mensilmente, una pensione pari a 1000 euro Secondo il noto volto televisivo, questa cifra non è sufficiente e non le permette di vivere bene Infatti deve continuare a lavorare per cercare di ottenere una cifra più elevata A confermare questa notizia è stata la stessa Simona Izzo quando ha dichiarato di essere entrata nella casa del Grande Fratello Vitto, negli anni passati Soltanto per accumulare denaro sufficiente per poter mandare a scuola i suoi nipotini, dal momento che la sua pensione era troppo bassa per farlo Queste affermazioni di Simona hanno scatenato delle dure polemiche, dal momento che una pensione di 1000 euro viene ritenuta media e non bassa Inoltre, i suoi guadagni nel corso degli anni sono stati sicuramente molto significativi, e perciò le avranno senza dubbio permesso di mettere da parte un buon patrimonio In tanti hanno anche fatto presente che ci sono altri personaggi dello spettacolo, che hanno lavorato quanto lei, che invece percepiscono o percepiranno delle pensioni ben più basse di così Simona Izzo è stata al centro di una dura polemica, recentemente, proprio per via di ciò che ha detto sulla sua pensione Sono tanti i personaggi televisivi che si sono scagliati contro di lei, ritenendo che le sue parole fossero stati irrispettose e offensive per gli italiani, che ricevono davvero una pensione molto bassa e non riescono ad arrivare a fine mese Aveva preso la parola persino l'amatissimo Maurizio Costanzo, che aveva dichiarato che queste fossero delle polemiche inutili, ma allo stesso tempo chi lavora in televisione ha la responsabilità di ciò che dice e può immaginare le conseguenze Secondo lui, infatti, un personaggio come Simona Izzo che conosce bene le dinamiche televisive, avrebbe dovuto tacere e non parlare della sua pensione La Izzo non ha più affrontato l'argomento ma in passato si è detta altre volte scontenta della cifra che riceverà, anche se attualmente continua a lavorare Anche sui social in tanti non hanno apprezzato queste dichiarazioni Voi che cosa ne pensate? Condividete con quanto ha detto Simona Izzo oppure anche voi ritenete che lamentarsi per la sua bassa pensione sia stato irrispettoso? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti Grazie a tutti